Allora innanzitutto buongiorno, oggi l'amministrazione comunale di Castelfranco Emilia ha voluto essere presente all'interno di questo contesto per dare maggiore evidenza al lavoro che è stato fatto dall'Università di Bologna sul giardino storico. Villa Sorra per chi non la conosce è un elemento che ha alcuni aspetti peculiari all'interno del territorio rurale modenese. Prima di tutto è di proprietà pubblica, sono 90 ettari completamente di proprietà pubblica tra i quattro comuni comproprietari, 60 dei quali vengono gestiti quotidianamente dall'Istituto Superiore San Lazzaro che si occupa attraverso la propria didattica della gestione, manutenzione e valorizzazione di quegli spazi. Esiste poi una parte che noi chiamiamo giardino storico in prossimità della villa che viene utilizzata quotidianamente dalle amministrazioni e che sostanzialmente è il vero e proprio parco pubblico di Castelfranco Emilia. L'intervento dell'amministrazione comunale è funzionale a spiegare come il progetto che è stato seguito dall'Università di Bologna e dal professor Minelli in realtà è integrato all'interno di un progetto molto più ampio che si chiama appunto Villa Sorra per i Sapori che prevede la riqualificazione non solo del giardino storico ma anche degli edifici principali del compendio. I lavori facendo i dovuti scongiuri visto che siamo già in fase di gara avanzata dovrebbero partire nella primavera del 2023 ed è il motivo per il quale orgogliosamente siamo qui a presentarvi il progetto. La villa che è sempre stata considerata come un elemento architettonico funzionale al giardino verrà poi recuperata attraverso una serie di interventi di restauro ovviamente conservativo che la potranno trasformare nel corso del tempo in diverse funzioni principalmente museale legate al sistema della didattica e della convenistica oppure all'interno del sistema degli eventi. L'idea di avere una villa che mantiene un grande grado di flessibilità da un punto di vista funzionale ci permette poi di valorizzare ulteriormente il giardino. Gli interventi che partiranno appunto nel 2023 legati al giardino sono fondamentalmente quelli che ci permettono di dare una migliore e maggiore accessibilità. Come è facilmente intuibile un giardino di queste dimensioni ha un problema reale di accessibilità soprattutto per le persone con limitata mobilità. Il progetto pervede quindi la rifunzionalizzazione e la valorizzazione degli elementi di accesso come appunto il parcheggio e il rifacimento di quelli che sono i viali principali della parte romana della parte all'italiana o alla francese del giardino per poter andare a vedere e valorizzare quelli che sono tutti gli elementi architettonici che fanno parte del giardino romantico. Questo ci permetterà nell'arco di presumibilmente meno di un anno di ridare al pubblico una serie di percorsi che permetteranno di fruire del giardino con diversi gradi di accessibilità e che vogliono diventare il valore aggiunto del progetto Villa Sorda Sapere i Sapori. È facilmente intuibile come la riqualificazione di questi spazi porterà dei vantaggi in termini di valorizzazione complessiva del bene. All'interno del progetto ovviamente verrà recuperata anche la limonaia o serra che in questo momento è utilizzata come deposito per i limoni e gli oleandri che manterrà questa funzione ma che ovviamente con degli standard migliori. Il recupero di questi percorsi diciamo e del giardino storico nella parte alla francese permetterà poi di avere una porta di ingresso sul giardino romantico del quale vi parlerà il professor Minelli che ha degli elementi architettonici peculiari come appunto le rovine del castello che nella speranza dell'amministrazione nel corso dei prossimi anni potrebbero forse essere recuperate.